Per me, per come la vedo io, è molto chic, può essere molto sexy, può essere molto formale, un po' dipende da come la metti. A proposito di Cuba, ti manca il mare di Cuba? Tornerai quest'estate? Manca da morire, ho già provveduto anche le camicie per andare al mare, quelle di lino un po' oversize, diciamo che... Ti sta arrivando l'estate, cosa fai per mantenerti in forma? Davvero, mi mangio un chilo di Nutella a colazione, hai presente i roll, quelli tutti pieni di cioccolato, pure sopra le cucchiaiate di Nutella, però vabbè, diciamo che prima o poi finirà questa... chiamiamola fortuna. Non fai proprio attività fisica? Allora, palestra come palestra no, però mi piace molto ballare, e sudo molto ballando, cioè ballo proprio latinoamericano, quindi diciamo che sì.